Il mio percorso imprenditoriale praticamente è stato molto lento, nel senso che ci ho messo un anno e mezzo o due a vedere i primi soldi perché non avevo le competenze. Il business non è come il calcio, dove c'è talento, cioè se metti Messi e metti me a giocare vedi la differenza, da un punto di vista di talento. E quello non puoi, ce l'hai o non ce l'hai, non puoi costruirlo. Nel business puoi costruire tutto, perché puoi costruire le competenze che hai. E in base alle competenze poi costruisci qualcosa. Se uno non ha le competenze non può fare business, se uno ha le competenze può fare qualsiasi business. Poi ho fatto consulenza in qualsiasi nicchia, in qualsiasi mercato, avendo ottimo successo per questo motivo qui perché mi sono concentrato non sul risultato dei soldi, ma sul miglioramento costante della persona e della persona che devo diventare per raggiungere quei risultati.